Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo quest'altra splendida maglia dall'NBA, questa del Philadelphia, in l'edizione, diciamo così, Swingman, in versione Icon Edition. Alla prossima! La maglia è fatta veramente molto bene, con tutti i dettagli al posto giusto, mi sento un po' con questi colori, un po' Capitano America. Qui in alto vedete il costo, molto basso e conveniente per una maglia fatta così bene. In descrizione, qui sotto, vi ricordo che trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere questa e altre splendide sorprese che vi attendono. Prima di lasciarvi, vi volevo chiedere di iscrivervi al canale. A voi non costa nulla, ma ci permette di mostrarvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media. A voi non costa nulla, ma ci permette di iscrivervi al canale. A voi non costa nulla, ma ci permette di iscrivervi al canale. A voi non costa nulla, ma ci permette di iscrivervi al canale.